Gennaro Ruggiero, consigliere comunale a Mugnano di Fratelli d'Italia, stamani ha partecipato al convegno sulla violenza di genere su Giuseppina Bianco, 80 anni dal martirio. Cosa ad aggiungere rispetto a quello che hanno detto i relatori in sala? Una manifestazione alla quale partecipiamo noi come partito e come consiglieri comunali già da qualche anno, perché finalmente si è ripristinata una verità storica che negli anni si era persa, perché Giuseppina Bianca è stata vittima di quelle che vengono definite marrocchinate, cioè praticamente è stata vittima di una violenza subita da un soldato francese di origini marocchine appunto che navigava a buio nelle terre della periferia di Mugnano e che voleva approfittare di Giuseppina Bianca. Per anni abbiamo subito un'altra verità che tale non era, un'altra storia che tale non era e oggi con una verità ripristinata ci fa piacere portare la nostra testimonianza anche per tutte quelle che sono poi le violenze che subiscono le donne anche nella vita quotidiana.